Sono Isoletta Cometo, 32 anni e insieme a mio marito gestiamo diverse attività e due locali c'è Muscula Torre di Mestre, sono un ristorante sushi e cucina giapponese e un cocktail bar. Poi abbiamo altri due locali a Treviso dove facciamo uno solo cocktail, quindi solo serale, l'altro è un locale dalla mattina fino alla sera, quindi dalla colazione fino al dopo cena. Master Restaurant è figo perché comunque è pieno di spunti concreti da poter mettere in pratica anche dall'oggi al domani. Ci sono cose un po' più complesse ovvio, però tanti spunti soprattutto per il periodo di Natale, visto che adesso ci abbiamo a Natale, quindi è stato veramente figo. Spunti e consigli da applicare immediatamente che è la cosa più figa. Lo consiglierei a tutti, assolutamente, perché è pratico e semplice, quindi per tutti i ristoratori o anche per quelli che io penso che attualmente la ristorazione è anche condotta da tante famiglie, quindi magari che pensano che sia più difficile attuare determinati sistemi, qui sembra tutto più semplice e lo è dopo, perché insomma avere una persona che ti spiega come fare e aiutarti a mettere in pratica è figo. Grazie a tutti.